Sono Stefania e ho appena concluso il mio progetto Solidità Digitale presso l'Ufficio di Pubblica Tutela qui in città metropolitana e consiglio a tutti i nuovi civilisti un'esperienza come la mia, ovvero totalizzante ed emozionante, di cui non cambierei nulla, quindi in bocca al lupo. Sono Francesca, il mio progetto si chiama Portata di Libro ed è stato svolto presso la Biblioteca di Cambiano. Vi auguro di essere curiosi perché per me il servizio civile è stata scoperta. Sono Luca, ho svolto il servizio civile presso l'Europe D'Area di Torino e per me il servizio civile è stato un modo per scoprire nuove competenze e sperimentarvi in nuovi contesti. Sono stati accolti da Valentina Cera, consigliera della città metropolitana di Torino, delegata alle politiche giovanili. Giovedì 29 giugno nell'auditorium di Corso Inghilterra, i ragazzi e le ragazze che stanno per iniziare il servizio civile nazionale. La scelta volontaria e consapevole di dedicare 12 mesi della propria vita al servizio della comunità. Io mi chiamo Carmen e ho finito il mio servizio civile presso il reparto di oncologia all'ospedale di Carmagnola e tutto quello che voglio dire è che anche quando tutto sembra più grande di te o di voi, non spaventatevi, andate avanti perché merita. Sono Alessandro, ho svolto il progetto proiezioni presso la città metropolitana di Torino e il mio consiglio per i nuovi civilisti è buttatevi e provate veramente di tutto e mettetecela tutta. Dopo i saluti istituzionali la parola è passata alle testimonianze dei civilisti e delle civiliste che hanno concluso il percorso nei giorni scorsi. Un anno di crescita in cui tutti e tutte hanno dato il meglio mettendosi in gioco e cercando di superare paure e insicurezze. Sono Chiara, il mio progetto si chiamava proiezioni, ho svolto il servizio civile presso lo Europe Direct di Torino e la mia esperienza in una frase è stata mettersi in gioco. La città metropolitana di Torino, per rispondere al bisogno emergente di molti enti e organizzazioni del territorio, è un punto di riferimento per la gestione del servizio civile assumendo un ruolo di coordinamento e di sostegno. Sono Alessia, ho svolto il servizio civile presso il reparto di Oncologia di Carmagnola con il progetto La Forza della Fragilità e per me il servizio civile è stata una scelta importante che mi ha cambiata e la risceglierei altre mille volte.